Negli ultimi anni si è rilevato un consistente incremento della spesa pro capite nel gioco d'azzardo, un fenomeno sociale che espone le famiglie ad una povertà ancora maggiore in un periodo già fin troppo aggravato da una crisi economica pesante, oltre che al rischio per molte persone di finire nelle mani degli usurai. Le istituzioni non possono e non devono stare a guardare. A lanciare l'appello è il presidente della provincia di Bari, Francesco Schittulli, che da tempo sta portando avanti una lotta contro il gioco d'azzardo. Per questo ha deciso di chiamare a raccolta tutte le amministrazioni comunali del territorio. L'iniziativa ha l'obiettivo di individuare e attuare nell'ambito delle proprie competenze, interventi idonei e limitare quanto più possibile il fenomeno, ma soprattutto evitare il coinvolgimento dei minori. Una battaglia per la legalità che da anni sta portando avanti anche la fondazione anti-usura San Nicola e Santi Medici, presieduta da Monsignor Alberto Durso, ed il cartello Insieme contro l'azzardo. Nell'incontro di oggi il presidente Schittulli ha dunque chiamato a raccolta i sindaci della provincia di Bari per approfondire la questione e individuare la misura da adottare anche alla luce della legge regionale GAP, ovvero disposizione per la prevenzione del trattamento della patologia da gioco d'azzardo. All'incontro hanno partecipato anche l'avvocato Attilio Simeone, coordinatore nazionale del cartello Insieme contro l'azzardo, il sociologo Maurizio Fiasco, consulente della consulta nazionale anti-usura e gli assessori provinciali alla trasparenza, alla legalità e all'ambiente Vito Perrelli e Giovanni Barchetti.